4Lenner 2011, Previo Innovazione, siamo qui con Alessandro Mazza, titolare di Bambinzionenti Arbro SRL, che ci presenta il prodotto che hanno presentato a questa seconda edizione del premio. La calzatura che abbiamo deciso di produrre e di progettare era una necessità in quanto era una lacuna del nostro settore specifico per il lavoro in quota su fune e sugli alberi, in quanto fino ad ora non esisteva una calzatura espressamente progettata per questo tipo di applicazione, per cui è stata richiesta una suola speciale a Vibram, quindi con una mescola particolarmente morbida e un'alta aderenza in modo da fornire un buon grip anche sulla corteccia liscia e bagnata, sono stati eliminati tutti gli occhielli metallici, ci sono solo dei passanti per i lacci in modo da non danneggiare la corda di lavoro, la punta è particolarmente rastremata in modo da ottenere un buon posizionamento anche nelle forcelle più strette e abbiamo deciso di inserire una membrana idrorepellente che è l'Event dalle proprietà antiacqua in modo da poter fornire una scarpa da utilizzare in ogni condizione di tempo. Ecco il peso di questa scarpa è intorno ai 400 grammi, quindi è una scarpa molto leggera, proprio adatta a chi deve lavorare in quota. Signor Mazza io la ringrazio molto e in bocca al lupo per il premio. Grazie.